Gormiti! Sol, i tuoi guerrieri sono qui per sostenerti. I nostri poteri sono a tua disposizione. Vi ringrazio, fratelli Solak. Oh, che scena stupenda! Tremo tutto per la paura! Sì! Mettiamo fine a questa follia, Eklos. Ma che accidenti! Sol ci riuscirà, io ne sono certo. Ah, non ne sarei così sicuro. Cuore mio, ora mi servirà ogni singolo briciolo di energia che ti resta. Il cuore è troppo potente. Titano, ubbidisci al tuo vero padrone! Apri il portale! Ecco fatto. Ora siamo ufficialmente spacciati. Il meteorite ci ridurrà in poltiglia. No, sta tranquillo, questo qui ci schiaccerà prima. Ragazzi, è stato un piacere conoscervi. Aobi! Kawakai! E ha portato anche i nanetti energetici! Kawakai! Forza, diamoci da fare! Kawakai! 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 Wow! Oh, chi è stato... straordinario! Adesso tocca a voi! Avanti, guardiani! Sì, siamo tornati! Va bene, Iskador. Mostraci che cosa sei capace di fare. Ehi, questo non è Leale! Il cuore del Titano! Preso! Sì!